Non inizia bene la settimana, lo sapevamo, però ragazzi fa sempre male vedere questi crash, fa sempre male vedere queste cose, soprattutto la questione ETH era alle porte, ve lo avevo accennato che se avesse abbandonato il supporto 4000-3009 finiva male. La questione è tutta legata alla chiusura del ciclo semestrale, c'era tantissima informazione su alcuni pattern, ho visto degli scenari americani fatti da youtuber americani e analisti americani che non condividevo per niente, però un pochettino ovviamente mi hanno lasciato titubante perché li seguo da sempre, sono molto bravi questi analisti, quindi faccio sempre un po' il confronto con le mie analisi, però non mi convincevano determinati scenari come dei pattern di pug che stavano tornando a salire, che avevo visto, insomma ragazzi, purtroppo la ciclica chiama e quando la ciclica chiama, soprattutto in chiusura di un ciclo settimanale e semestrale, che è un ciclo molto grosso, questo è quello che capita. Allora siamo in difficoltà, chi non dice una cosa del genere non dice la verità, soprattutto oppure non la conosce, poi la difficoltà non significa che comunque questi mercati continueranno a scendere, assolutamente non la vedo così nel lungo periodo sicuramente, però il prossimo ciclo semestrale che stenta a chiudersi ha ancora tantissimo tempo davanti e quindi noi possiamo ancora stare in una situazione difficile come questa per tanto tempo. Certo ragazzi, oggi andiamo a vedere quali sono le scadenze più comuni e la prossima è tra pochissimi giorni, però ragazzi bisogna stare con gli occhi bene aperti e stare un po' attenti alle posizioni, quindi non vi lasciate ingannare, scusatemi questo termine, l'ultima volta che ho fatto un video del genere risale al gennaio del 2018, non vi lasciate ingannare, da Super Bull non si scende mai più, si segue sempre il mercato, quindi non bisogna creare panico, non FAD quando ci sono momenti di bassissi perché è sbagliato, non bisogna pensare che si sale a prescindere perché è sbagliato, bisogna andare a guardare i segnali che i prezzi ci danno e costruire delle strategie, dei piani, delle programmazioni sul vostro patrimonio, sui vostri investimenti che vi facciano stare tranquilli, quello è il modo giusto, non facendo lo struzzo con la testa sotto la sabbia, gira tanta fuffa di nuovo, rumore, rumore, nananana, ho comprato un nuovo libro di Kenman ragazzi, mi piace tanto dove definisce questo rumore, ce l'abbiamo anche noi analisti, rumore nelle nostre previsioni, chi dice il contrario di tutto, è un po' così ragazzi, quanto rumore è tornato il 2018 sulla scena del rumore nei mercati cripto, tanta fuffa, tanta tanta fuffa, soprattutto genera tanta confusione ragazzi, quindi imparate a eliminare la confusione da quelli che sono i mercati e gestite la vostra posizione, il vostro portafoglio, nel modo migliore possibile per voi ragazzi, quindi imparate questa cosa, trend is your friend, il trend al breve è ribassista, seguite i trend se siete trader di breve, long è, lungo periodo è ancora, long rialzo, medio periodo è in barra di congestione da un anno, andiamo a fare il punto della situazione perché oggi è un video importantissimo, quindi statevi ancorati alla sedia perché oggi diamo le botte ragazzi, ok? Oggi andiamo a dare un po' di segni, segnali e su cose che sono importanti e che stiamo finendo anche l'anno e andiamo a vedere il tutto, lasciatemi un mi piace come sempre se volete sostenermi, anche quando sono in BIP, come oggi per tanti motivi che non voglio dire qui sul canale, ma proprio per questa quantità di fuffa stratosferica che poi purtroppo risentono sempre gli investitori, soprattutto i neofiti, non va bene, non va bene ragazzi, ok? Sbagliare avendo dei piani che vanno in stop loss è giusto, questo fa parte del mestiere degli investitori, ma raccontarsi i frottole no, ok? Che è una cosa differente, ok? Mi raccomando, va bene, allora andiamo a fare il punto di sostituzione del tutto, basta con questa vamprina scassa che poi fa male, ciclo, velocemente vi faccio vedere il ciclo mensile dove siamo, parliamo però del semestrale, vi faccio vedere delle candele importantissime su Bitcoin per vedere cosa è successo nel 2021, cosa sta facendo il 2021? È nel trimestre che scade fra dieci giorni, siamo alla fine dell'anno, dove siamo? Sono pro e contro, vi faccio vedere dei livelli importanti, soprattutto per prepararci almeno al prossimo trimestre dell'anno e vedere un po' quello che sta facendo. Allora, punto primo, siamo nella fase di chiusura del ciclo semestrale, lo avete capito, il problema è che il ciclo semestrale è lungo a chiudersi, quindi non è assolutamente detto che finisca nei prossimi giorni, questo minimo che è stato lasciato molto imponente, 41.006, è molto 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 preoccupante, perché tecnicamente questo ciclo che è un mensile iniziato intorno alla 26 di novembre probabilmente, su Bitcoin ed ETH, ora ve lo faccio vedere anche su ETH, è ribassista e per chiudere deve chiudere tutta questa struttura tecnicamente sotto questo minimo. Io non considero questa shadow valida, però ragazzi, questo livello bluett qui a 45 potrebbe essere toccato proprio in questa fase di chiusura, soprattutto se il minimo dal quale è partito, diciamo, questo rimbalzino del gatto morto sabato e domenica, come sempre, quindi giorni inutili, anche questo ribasso era di sabato proprio per questo, non considero questa fase di bassista totalmente, insomma, ecco ragazzi, però un arrivo intorno ai 45 potrebbe essere il punto chiave di arrivo proprio di questo ciclo di natura semestrale che va a chiudersi, facciamo un po' di conteggi e poi andiamo a mostrare quello che è la questione di ETH e soprattutto candela trimestrale di Bitcoin e l'anno, che cosa ha fatto nell'anno 2020? Facciamo uno zoom out, no? Invece dello zoom in e andiamo a vedere un po' la questione. Allora, questa zona è una zona di chiusura del ciclo mensile, poi il successivo ciclo mensile potrebbe essere il nuovo dell'annuale o no, perché ancora è possibile avere anche un altro mese in questa situazione, magari non al ribasso, si spera ragazzi, perché tecnicamente potrebbe essere nuovamente ribassista anche il prossimo ciclo mensile, se dovesse avvenire quello entriamo in mercato orzo, ma di quello ne parliamo a gennaio, perché è inutile parlare di qualcosa che non è secondo me nell'ambito della probabilità e un po' forse eccessivo, ve lo faccio vedere con il grafico delle candele annuali di Bitcoin, proprio per questo voglio farvi vedere una particolarità. Allora, questa questione invece legata alla ciclo mensile è importante da comprendere, perché se riesce Bitcoin a sostenere questa zona qui, come vedete quando Bitcoin crolla, molti mi fanno l'esempio, non resistono neanche le altre cripto, neanche TH è riuscita a resistere, anche perché TH deve chiudere un ciclo proprio contro Bitcoin, quindi perde un po' di forza relativa che aveva accumulato nei prossimi giorni probabilmente lo sto già facendo. Allora, questa è la struttura, questa zona, questa zona ragazzi, è la zona di appoggio, non deve perdere il 45.2, deve chiudere questo ciclo, cambio colore, non mi piace questo rosso, porta male, porta male il rosso assolutamente, è uno dei miei colori preferiti ragazzi, io non lo voglio vedere sul grafico. Va bene, allora facciamo così il bluette, allora questa zona così, poi va a chiudere qui, ma in questa zona deve farlo entro una settimana, perché intorno al 20 già siamo messi bene sotto Natale per chiudere questo ciclo mensile, poi inizierà un nuovo ciclo mensile che anche volendo qualche giorno al riazzo lo fa, e da lì abbiamo idea se possiamo essere su un nuovo semestrale o no. Il nuovo semestrale io lo tratterò a long lo stesso, ma se il nuovo semestrale non va come deve andare, esco con le mie posizioni di holding ragazzi, anche in una parte abbastanza rilevante. Al momento sono fuori con il 20 e passa per cento, qualcosina l'ho tolta nel precedente rimbalzo, come da mio short, ho fatto lo short, lo short significa su YouTube, lo short piccolino, come si chiama, insomma noi dico come si chiama, le piccole storie su YouTube, per farvi capire quello che è un po' la questione, insomma che era in atto, ed è it ragazzi, allora questo è quanto. Allora per quanto riguarda la questione invece delle altre strutture cicliche e bisogna fare un po' il punto della situazione, adesso andiamo a vedere, prima però vi faccio vedere un exchange che sto provando ragazzi, di cui ho fatto anche la recensione che si chiama Delta Exchange, è molto piccolo però, ha una struttura di bonus notevolissima, che mi piace tantissimo e soprattutto questo è un exchange che a differenza di alcuni altri è stracolmo di opzioni, di strategie da costruire sui derivati ragazzi, quindi questo è un exchange di derivati, io sto provando in demo ragazzi questa testnet, quindi vedete le operazioni short che vanno su e vanno giù, e mi piace molto questa cosa perché è stracolmo di indicatori derivati, quindi da utilizzare solo e unicamente sui derivati per chi vuole fare edging, quindi coperture, infatti io sto provando lo short per vedere un po' la piattaforma come sta funzionando, c'è la testnet, quindi potete provare in demo le operazioni, mi era piaciuto, è piccolino, faccio la recensione proprio perché ha diversi strumenti che non sono presenti su altri exchange, quindi perché no, e poi ha una cosa, ha il funding, che è la spesa che noi paghiamo all'exchange quando andiamo in leva, che è il più basso di tutti, quindi questo significa pago poco l'operatività, e questo esiste perché ovviamente essendo un piccolino come exchange deve raccogliere liquidità, scambi, e quindi ci dà un funding, vi lascio il link in descrizione, mi date una mano come sempre con i rep, ma soprattutto andatelo a provare perché mi interessa anche la vostra opinione, funziona o non funziona, io lo testo sempre anche a livello di strategie per vedere se regge durante fasi di crash o meno la piattaforma, quindi uscirà a breve anche la recensione, passiamo invece alla questione legata al grafico che volevo farvi vedere adesso su, eccolo qui ragazzi, allora iniziamo a ragionare su questi due grafici che sono importanti, prima andiamo a vedere il trimestre di Bitcoin, vedere un grafico così ha poca rilevanza, a meno che non andiamo a fare una considerazione sui pattern, i pattern delle candele che si stanno andando a verificare, non si può operare su un grafico a trimestre, da un punto di vista di investimento è un po' difficilotto, anche di trading impossibile, però è interessantissimo andare a prendere questo tipo di grafico per vedere che cosa è successo con una sola candela in un intero trimestre, ed è molto significativo questo grafico mi è piaciuto tanto, allora ragazzi guardate la questione qui del grafico trimestrale di Bitcoin, intanto si vedono proprio tutti i cicli compresi le fasi di mercato orso, guardate questa è la fase 1 del mercato orso, questa è la fase 2 del mercato orso, quella del 2017, questa è quella del 2013-2015, ora dove siamo bla bla bla, allora intanto pattern sulla candela del trimestre è bruttino ragazzi, perché guardate questa candela qui è una candela brutta, assolutamente brutta, perché è una candela di massimo storico disegnata, allora questo è un problema ragazzi, perché andare a vedere queste raffigurazioni, tutti noi vogliamo che il mercato continua a salire, inizierà un prossimo semestrale, è quello infatti la chiave, insomma noi dobbiamo avere un semestrale che prima della fine di questa candela vada a fare qualche numerino e riportare Bitcoin intorno ai 52-53, se lo fa annulla questo pattern, perché abbiamo ancora 17 giorni, e se lo fa ok ragazzi, ma se non lo fa e chiude un pattern del genere, a gennaio inizia una nuova candela su questa roba qui, e inizia una nuova candela con un pattern che, questo ragazzi lo conoscono gli analisti, è un pattern disegnato così su un trimestre, ha tanta significatività, non poca significatività, intanto ci dà un livello che ve lo potete scrivere diciamo con un tatuaggio sulla pelle, che faccio, vi scrivo un tatuaggio sulla pelle di questo livello ragazzi, cioè i 61.000, questo livello 61-62, non si supera, è quello il bestione, al di là delle shadow rialziste, sì è vero siamo arrivati a 69, ma poi il mercato ha fatto retromarcia proprio anche su questa candela dei trimestri, quindi questo ha indicato che questo livello, questa zona qui non riesce a chiuderci sopra, il più alto livello trimestrale di chiusura risale al trimestre iniziale dell'anno, quindi proprio gennaio e febbraio, marzo, ed è a 58.780, prezzi Bitstamp, 59.000, allora da marzo ragazzi del 2021 Bitcoin non ha fatto nulla, è sceso, risalito, sceso, risalito, ma non è riuscito più a salire sopra i 61.000, le altcoin, un'altra storia, hanno fatto i botti moltissimi e lo sappiamo, ma Bitcoin ha sofferto ragazzi e l'anno 2021 non è un anno di bolla, non è stato un anno di bolla, è stato un anno di riflessione del mercato, anche per questo secondo me l'anno 2022 potrebbe essere interessante da andare a guardare proprio come anno che genera una serie storica sul Bitcoin diversa completamente da quello che abbiamo visto nel passato, è questo la scommessa ed è questo che andremo a vedere il prossimo anno, però questa candela qui se viene confermata, io spero di no, già se Bitcoin inizia a salire poi entro la fine del mese di dicembre si riporta a 55, ci fa un grande favore ragazzi, va bene, però se viene confermata così attenzione a break dell'aria di minimo di questo trimestre che è vicinissima perché 42.000, 42.000, un break di questo minimo è pericolosissimo ragazzi perché va a innescale una spirale di inversione di medio-lungo periodo e porta a un probabile mercato orso, diciamo, bear market molto probabile, ecco non sicuro, però insomma ragazzi diventa un po' pericolosetto, quindi poi facilmente potrebbe scendere fino a questo livello e cioè almeno in zona 34, la cosa non ci piace, non ci piacerebbe affatto però potrebbe fare proprio così ragazzi, ok? Questa è una candela di massimo, è un pattern bruttissimo che si va a verificare su un trimestrale in questo momento, quindi è bene che venga semi-annullato entro questi 17 giorni. Capite adesso l'importanza dei prossimi giorni come chiusura del ciclo mensile, come chiusura del ciclo semestrale e questa è veramente molto molto importante. Vi faccio vedere l'ultima grafico di oggi per farvi vedere che invece, allora abbiamo visto questo che è negativo, adesso ne vediamo uno che è positivo perché è quello dell'anno, l'anno 2021 non è un anno di bolla, ve l'ho già spiegato e soprattutto se nei prossimi 17 giorni il mercato riesce a riportarsi sopra alcuni livelli, quell'anno lì non è un anno dove si genera un eccesso e questo è interessante e soprattutto non si genera nessuna candela di inversione. Ovviamente ragazzi quando andiamo a vedere questo tipo di grafici ricordatevi che gli anni su bitcoin sono troppo pochi perché le serie storiche sono poche, però a noi non interessa per operare, interessa per andare a vedere il famoso pattern che si sta andando a costruire. Quello che è possibile vedere in maniera molto chiara ragazzi è che tutti i bull market di bitcoin sono finiti con delle candelone verdi importanti, in questo caso però abbiamo solo due serie quindi non possiamo dire che ci sia significatività statistica perché una serie storica con due lighe e con due candele non esiste neanche la serie storica, va bene? Però siccome qui parliamo comunque di anni, parliamone da un punto di vista molto chiaro. Allora qui abbiamo avuto il 5000% ovviamente perché il prezzo era bassissimo, qui il 1300 passa per cento nel 2017, qui anche perché se consideriamo il 2020 abbiamo avuto un più 300% e se consideriamo addirittura il 2021 siamo a più 63 che è comunque una cifra positiva ma chiaramente non si può parlare di bolla. Quando si parla di bolla di un mercato a più 63% bitcoin non ce l'assicuro, alcune altcoin probabilmente sì ma non certamente bitcoin ragazzi. Questo è una cosa che va considerata, quindi l'anno 2021 è un anno sì positivo ma anche di riflessione ma soprattutto non ha generato quasi sicuramente eccessi sul mercato. Questa cosa è positiva perché? Perché il 2022 potrebbe essere un anno magari di ulteriore riflessione, quindi chiude così l'intero mercadorso, potrebbe essere anche perché no di pump ragazzi, perché questo pump non c'è mai stato in maniera importante, c'è stato lo scorso anno, questo sì, però è un 300%, non un 900%, sì che bitcoin ha prezzi alti, però ragazzi lo scorso anno 2020 siamo partiti comunque da 3000, non è che erano prezzi esagerati, quindi allora queste candele ci danno un po' di speranza sul fatto che il prossimo anno bitcoin magari potrebbe anche decidere di disegnare una rossa, questo è vero ragazzi, quindi una candela rossa, ma magari non fa meno 70 o potrebbe andare a fare magari un anno rosso, però stare comunque in trading range, lo so non sono dati entuziasmanti magari per alcuni di voi, però potrebbe essere questa alla fine la chiave di svolta, perché è ragazzi, siamo a tre anni di salita del mercato cripto e se un anno il mercato cripto si riposa, non è che muore qualcuno, purtroppo gli investimenti vanno anche ragionati in termini di lungo periodo, cioè ci sono però tanti fattori da andare ad analizzare e secondo me il fatto che il 2022 possa essere un anno estremamente catastrofico non lo so, io lo spero di no, è vero che c'è la questione di inflazione e quindi ridurranno la stamperia, il printing del dollaro e questo potrebbe essere negativo ragazzi, però dai dati che abbiamo in nostro possesso bolla non ce n'è, quindi aspettarci magari un crash importante del mercato non lo so ragazzi, tutto può succedere, però dai dati non si evince questa cosa qui, è possibile avere magari un annetto che può essere ancora difficoltoso, ma perché no potremmo avere la famosa candelona di bolla speculativa, ecco perché c'è tutta questa confusione attualmente, perché questi anni dei mercati cripto hanno cambiato un po' la storia di bitcoin, è giusto che sia così, anche perché siamo in una fase di adoption, quindi ragazzi attenzione, morale della favola, attenzione alla chiusura del ciclo semestrale che avverrà entro questo mese, ma poi abbiamo un mese di raccordo che bisogna andare a vedere perché potrebbe essere un altro mese, lo so ragazzi, purtroppo è difficile dare dei dati oggettivi quando ci sono tutte queste inferenze, chiamiamolo così, va bene, e allora poi bisogna attendere diciamo un mesetto per capire se va, ovviamente dalla chiusura del prossimo mensile si va long per tentare di salire sul carro del ciclo semestrale, se il ciclo semestrale fa la botta allora siamo tutti felici e contenti, tanto seguiamo il trend, altrimenti ragazzi poi ci sarà la chiusura del ciclo annuale e quella darà risposta se l'anno 2022 disegnerà una rossa, una candela rossa, che si andrà qui a configurare magari fatta così, purtroppo rossiccia non blu, oppure se continuerà breccando finalmente il livello di 62.000 dollari, che a questo punto mettetevelo in testa almeno un trimestre sopra, ma sicuramente almeno un mese, ma insomma mese, mese, sarebbe meglio sopra 65, però se fa una cosa del genere il ciclo semestrale spinge, allora siamo fuori pericolo, altrimenti ragazzi si suda, e non poco, fino a almeno agosto settembre dell'anno 2022. Che ne pensate? Nei commenti ragazzi, fatemi sapere quello che pensate voi, scambiamoci opinioni, ovviamente sono stra importanti, e mi raccomando nervi saldi soprattutto, seguite il trend e costruitevi un piano, non andate diciamo dietro a quelle che sono le sensazioni, perché la parte emotiva soprattutto in questa fase è molto complicata da gestire, e il mercato bastona, ve lo assicuro, in maniera pesantissima, se ragionate così. Quindi costruitevi un piano di azione, costruitevi un piano di azione, se non avete strategia, non avete formazione, usate il pack, che è la migliore strategia per chi formazione non ne ha. Mi raccomando ragazzi, ok? Nervi saldi, ciao a tutti!